Era il 30 dicembre 2020. Borghi ospitava la tradizionale discesa libera di Coppa del Mondo ed Antonio Rossi, all'epoca sottosegretario ai grandi eventi sportivi di Regione Lombardia, ci ribadiva il concetto. Le Olimpiadi 2026 sono un'occasione da non perdere, però bisogna muoversi perché di tempo ce n'è poco, ci diceva. Oggi il campione olimpico e mondiale di Canoa è tornato sull'argomento in occasione dell'incontro a Caffè della Posta. Qui la lista della Lega per le elezioni comunali a Sondrio ha organizzato un incontro per parlare e confrontarsi proprio in merito alle prossime Olimpiadi. Stiamo avvicinandoci sempre di più al 26, a febbraio 26, Sondrio è protagonista, anche grazie alle scelte che sono state fatte dall'amministrazione. Ci sono tanti eventi da qui al 26 che coinvolgono Sondrio, penso ai mondiali master invernali dove arriveranno più di 10.000 atleti da tutto il mondo e Sondrio è la capitale. Al Bosagio ha appena dedicato una via a Mario Cotelli, il papà della Valanga Azzurra. Parlando di sci, il pensiero e la gratitudine non può che andare a questo grande Sondrese. In fondo, oltre che una via, si potrebbe dedicare a Cotelli anche una pista delle prossime Olimpiadi. Per quello che ha fatto per lo sci, assolutamente penso che sia fattibile, bisogna capire dove e come fare, però penso che ci siano tutte le possibilità di farlo. Insieme al campione olimpico Antonio Rossi, l'assessore regionale Massimo Sertori che sostiene la candidatura di Marco Scaramellini a sindaco di Sondrio, ribadendo il buon lavoro fatto in questi cinque anni. La regione è qui a sostenere Marco Scaramellini, sindaco di Sondrio. Io sono molto contento e soddisfatto del lavoro fatto fin qui. Credo che l'amministrazione uscente abbia dimostrato di saper lavorare bene e di essere in grado di rilanciare Sondrio. Le Olimpiadi del 2026 rappresentano dunque una grande opportunità anche per la città di Sondrio e per la Valtellina nel suo complesso. Oggi, come ogni campagna elettorale che si rispetti, più si avvicina la data, più scendono in campo i big. Aveva rotto il ghiaccio Fratelli d'Italia, portando a Sondrio il ministro dello sport e delle politiche giovanili, Andrea Bodi. Ora tocca anche ai parlamentari europei. È un centrodestra unito a sostegno di Scaramellini sindaco, una rappresentanza importante con me e Chiara Valcepina, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, per dare ancora più forza al nostro partito e quindi all'intera coalizione, il messaggio di buon governo nel centrodestra, dal livello locale fino al governo Meloni a Roma. I temi di questa tornata elettorale sono un doppio fila che unisce regione alla città capoluogo. Chiara Valcepina sottolinea con orgoglio le sue origini valtellinesi. Io sono originaria di Cepina, il papà, ma io ho vissuto a Bormio tanti anni. Sono stata eletta però in provincia di Milano dove svolgo la mia attività lavorativa di avvocato. Siamo qui a testimoniare la presenza, la vicinanza e il supporto al candidato sindaco e ai consiglieri che si candidano per il comune di Sondrio. Campagna elettorale che entrerà in vivo nelle prossime settimane. Attesi a Sondrio, grossi nomi della politica nazionale e aspettatevi anche qualche sorpresa dell'ultima ora.